La nostra azienda ha costruito la propria immagine sul prodotto principe della dieta mediterranea, alta qualità dell'olio extravergine di oliva. Che è molto sano e che è anche molto ricco di componenti minori o di antiossidanti, che è la vera caratteristica di questo prodotto e che lo fa il re dei grassi vegetali. Per questo la scelta del vetro, a contatto con questo prodotto, lo rende assolutamente identico a come la natura l'ha creato. La neutralità del vetro fa sì che sia la miglior confezione per conservare tutte le caratteristiche dei migliori oli extravergine di oliva. Vetro naturale Vetro meraviglioso Vetro è vita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.